Presidente Gasparri, il decreto della pubblica amministrazione addirittura ad arrivo nella lettura al Senato, qual è la valutazione che ha dato? Una valutazione molto critica. La Madia ha messo la fiducia con il governo su un testo che prevedeva pensioni diverse per 4.000 insegnanti. Poi nel weekend il Ministero dell'Economia e la Ragioneria Generale del Tesoro bacchettano il governo e adesso la Madia ha chiesto la fiducia su un testo che cancella quelle norme. Se fossimo, non dico in un'università, in una scuola elementare la Madia sarebbe rimandata a casa. Appello ai familiari, richiamate la Madia. Non possono stare al governo persone che fanno cose così sconcertanti. Sull'economia, sui decreti, Renzi merita zero in pagella.